Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi suggerisco alcuni rimedi di bellezza contro l'acne e i brufoli e vi consiglio quali sono gli ingredienti migliori per trattare questo problema. Se vorrete anche delle ricette a riguardo dove andrò ad utilizzare appunto questi ingredienti lasciatemelo scritto nei commenti, intanto lasciate un mi piace al video, se vi piace questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. Uno degli ingredienti migliori in assoluto per contrastare l'acne è il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente ha ottime proprietà esfolianti che aiutano ad asciugare la pelle in profondità e a rimuovere lo sporco, le cellule morte, il sebo in eccesso e a pulire più a fondo i pori. Un altro ingrediente molto valido è la farina di avena. La farina di avena è un ottimo ingrediente per preparare delle maschere viso antibrufoli perché assorbono il sebo in eccesso e lenisce la pelle. Anche lo yogurt è ottimo per il trattamento dell'acne. Lo yogurt contiene acido lattico ed è utile per mantenere equilibrato il pH della pelle. Aiuta così ad eliminare i brufoli e previene la comparsa di altri inestetismi. La polvere di noce moscata, ma anche quello della cannella, hanno proprietà antinfiammatorie che li rendono ingredienti perfetti da aggiungere alle maschere. Leniscono la pelle e riducono le cicatrici causate da acne e brufoli. Il miele grezzo, come già sapete, è uno dei miei ingredienti preferiti in assoluto per qualsiasi cosa. Anche questo ha proprietà antibacteriche e antinfiammatorie che fanno di questo ingrediente un ottimo rimedio per eliminare il rossore. Anche il latte è un buon ingrediente e efficace per rimuovere i brufoli e mantenere la pelle pulita prevenendo la comparsa di punti neri, acne e anche altri inestetismi. Dunque questi sono quelli che secondo me sono gli ingredienti migliori per trattare l'acne. Se volete, in giro per il canale trovate altri video dove parlo di questi ingredienti e trovate anche già alcune ricettine a base di questi ingredienti. Se ne volete altre, lasciatemelo scritto nei commenti. Lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video o se vi è stato utile. Lasciate scritto nei commenti anche i vostri consigli per prevenire acne e brufoli o per curarli. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!